Aveva trasformato un capannone in disuso situato nella zona industriale di Villa Fastigia Pesaro in un sito di produzione di cannabis. Un 25enne di Palermo, operaio incensurato e da diversi anni residente in città, ieri sera è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pesaro durante un'operazione coordinata dalla Procura. Il giovane è accusato dei reati di coltivazione e produzione ai fini della successiva divulgazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica dalle pubbliche forniture. Il 25enne, già noto alle forze dell'ordine, da alcuni giorni era tenuto sotto osservazione ed era stato notato aggirarsi tra alcuni capannoni con fare sospetto. Quando i militari hanno fatto irruzione hanno scoperto che all'interno, in un ambiente di circa 150 metri quadrati, era stata realizzata una coltivazione intensiva di cannabis indica, la cui crescita e maturazione poteva essere veloce e rigogliosa grazie a un sistema artigianale di illuminazione, irrigazione e riscaldamento. Inoltre, in altri due locali, per una ulteriore superficie di circa 350 metri quadrati, erano stati realizzati gli stessi impianti e vi erano decine di vasi comparti di fusto di piante recisi. Un investimento non di poco conto per il ragazzo, viste la complessità e l'ingente quantità di macchinari, tra i quali climatizzatori, ventilatori e lampade, sequestrate oltre 300 piante di cannabis che avevano raggiunto stadi di crescita da mezzo metro fino a un metro e mezzo. Poi, dentro a un congelatore, i carabinieri hanno rinvenuto due sacchi di infiorescenze già essiccate di marijuana per quasi 5 chili, oltre a materiale vario per la cura, crescita e confezionamento dello stupefacente. I militari hanno trovato anche diversi gadget e materiale pubblicitario di siti di vendita di semenze. Inoltre, la presenza degli altri locali più grandi, dotati di apparecchiature, fa pensare che la filiera produttiva dello stupefacente, oltre che intensa, fosse anche reiterata da tempo. Tutti gli impianti realizzati, tra l'altro, avevano allacci pericolosi, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'Enel. L'intero capannone è stato sequestrato e il 25enne è stato portato nel carcere di Villa Fastigi, a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Pesaro.